Ciao a tutti, sono Fabio, sono il vostro docente del modulo SEO Base. Mi occupo di SEO ormai da più di 10 anni, in particolare di consulenza e formazione SEO. Ho lavorato con alcuni dei principali siti italiani, tanto per citarne qualcuno, Vodafone, Nestlé, Facile.it, Compass, eccetera, 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 e appunto formazione da più di 10 anni. Nel modulo SEO Base ci preoccupiamo di capire cos'è il SEO, di acquisire gli strumenti per sviluppare una strategia SEO e quindi di capire come concretamente mettere mano a un sito perché sia tra i primi risultati di ricerca su Google. Quindi capiremo appunto cos'è il SEO, quali sono i vantaggi dell'acquisire traffico organico, l'importanza del farlo, come opera un motore di ricerca, scopriremo e indagheremo i segreti, il dietro le quinte di Google e dei motori di ricerca e capiremo in particolare anche perché Google è il motore di ricerca di riferimento, perché è importante come acquisito, come acquistato nel corso del tempo questa importanza. Dopodiché ci preoccuperemo di capire, gestire e indagare le caratteristiche specifiche che il nostro sito deve possedere per puntare a posizionarsi tra i primi risultati di ricerca su Google, quali sono le caratteristiche del sito, dei suoi contenuti, le caratteristiche relative agli aspetti che questo sito deve avere e deve gestire. Quindi indagheremo e evidenzieremo i fattori di posizionamento, gli elementi che contribuiscono a determinare il ranking, cioè il posizionamento del sito tra i risultati di ricerca per una ricerca specifica. e ci doteremo degli strumenti pratici, concreti, per gestire direttamente il sito e il SEO del nostro sito, sia del nostro specifico sito oppure del sito della società presso la quale lavoriamo, con la quale lavoriamo. Quindi concretamente capiremo cosa fare, come mettere mano al sito, quali aspetti curare, come intervenire, cosa modificare, con l'obiettivo appunto che il sito incrementi il proprio traffico e che sia il più possibile visibile su Google. Quindi alla fine del nostro modulo avremo una panoramica chiara e molto concreta, molto pratica di come opera un SEO specialist. Approfondiremo i segreti dei migliori SEO specialist, delle best practice per far sì che appunto il sito si posizioni e soprattutto avremo una conoscenza pratica che affineremo anche appunto con esercitazioni pratiche in aula durante il corso, anche online per chi è collegato ovviamente da casa, di quelli che sono gli strumenti di lavoro di un SEO. Quindi li vedremo, impareremo a conoscerli, li utilizzeremo assieme, capiremo le logiche che stanno dietro con l'obiettivo finale appunto di essere capaci da soli o in team di fare SEO, quindi di posizionare il nostro sito, di acquisire traffico, di vedere il nostro sito tra i primi siti di ricerca e quindi ovviamente di ottenere quanto più traffico possibile.